E' del giovane Bogdan Stauciuc, la prima rete ufficiale della nuova stagione del Brinnisi, con l'attaccante classe 2002 che a Fasano ha realizzato la marcatura del momentaneo pareggio brinnisino e che rappresenta una delle note positive di un esordio non facile per la formazione adriatica che ha portato all'eliminazione della competizione tricolore. La Coppa non era certamente una delle priorità per la dirigenza brinnisina che però avrebbe voluto ovviamente un esordio diverso per alimentare l'entusiasmo intorno alla squadra bianca azzurra che da domenica andrà alla ricerca dei primi punti della stagione con l'esordio in campionato sul campo del Francavilla Insigni e con il giovane Stauciuc pronto a promettere il suo contributo per la causa bianca azzurra. Sono contento per il gol, per caso per il risultato, sinceramente non mi aspettavo, a poco dalla fine pensavo la partita si chiudesse in quel modo. Sicuramente da quando sei entrato hai dato tanta voglia in campo, il gol l'ha dimostrato ma ti sei reso anche pericoloso in almeno un altro paio di circostanze? Io sinceramente mi faccio trovare pronto quando il mister chiama, spero di farmi trovare pronto quando il mister chiama e cerco di dare il meglio di me, poi per il resto parlo al campo. Un campionato sicuramente complesso, oggi era ancora la Coppa Italia, da domenica però si inizia a fare sul serio, c'è la prima di campionato. Sì, andiamo a Francavilla, speriamo di dare qualcosa in più e di cercare di vincere la gara. Grazie a tutti.